Non ci ferma nessuno. Non ci ferma nessuno. Il podcast. Il diario di bordo del tour motivazionale universitario di Luca Betta. Puntata numero 8. Pronti a salire sulla carovana dell'ottimismo? Dai ragazzi manca davvero poco. Meno tre giorni e si parte. Riassunto dei podcast precedenti. Ieri vi ho svelato il calendario ufficiale del tour 2021. Oggi vi parlo di una delle novità più attese di questa settima edizione. Il nostro premio non ci ferma nessuno. Sì perché questo è un format di storie e alcune bellissime sono lì dove non immaginate. Eh sì sono proprio tra di voi. In questi anni me ne avete raccontate tante. Ho pensato al valore di ognuna. Così quest'anno in ogni tappa premeremo non tanto uno studente ma la sua storia di resilienza caparbietà e determinazione. Il premio diventa così pretesto per emozionare incoraggiare e contagiare di coraggio altri studenti. Il premio diventa così un pretesto per emozionare incoraggiare e contagiare di coraggio altri studenti. La dimostrazione che ognuno di voi anche inconsapevolmente racchiude una bella storia. Ciò che conta però è saperla tirar fuori. Quindi se vi va raccontateci quanto è bello il mondo dentro di voi. La nostra community saprà apprezzare. Intanto vi aspetto nel prossimo podcast. Ciao ragazzi!